Allora, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi lunedì 26 agosto e il termometro della crisi è orientato al bello, secondo chi vuole un governo, al brutto secondo chi quel governo lo vuole ma non lo ottiene, a seconda dei giornali. Come la vedono i giornali questa trattativa tra Movimento 5 Stelle e PD? Ve la faccio subito una piccola sintesi escludendo soltanto il Corriere che a quest'ora ancora non mi è arrivato e il messaggero, il giornale, il fatto e il tempo quotidiano sono ottimisti, si fa per dire, sul fatto che questo governo possa nascere, ottimisti, nel senso per esempio il giornale Titola, il PD cala le brache, oppure il messaggero dice più, diciamo sobriamente, il PD tentato da un conte bis, il fatto crede nel conte due, perché hanno seguito quello che ha detto il direttore, conte bis non si può dire perché conte bis sarebbe un errore. Poi dopo ieri Castagnetti, un vecchio democristiano, ha spiegato che nel 76 Moro fece un accordo con Berlinguer mollando il Partito Liberale e quello si poteva dire, insomma tutti i riferimenti storici che interessano relativamente, stiamo parlando di un altro mondo, però il punto fondamentale è quindi che nella divisione della stampa italiana messaggero, giornale, fatto, tempo e libero, cioè i giornali di centrodestra o comunque di orientamento di centrodestra pensano che la cosa sia fatta. Più scettici sono al quotidiano nazionale e a Repubblica che vedono le cose un po' più complicate. Su tutti i giornali il punto fondamentale però sia chiaro, in queste ore, in questi giorni anche noi giornalisti non sappiamo che pesci prendere, lo capisco, non tanto quelli come me che sono all'estero, ma quelli che sono lì sotto le stanze di Zingaretti, cambiano idee, ci sono troppe variabili in gioco, poi insomma facciamo affidarsi di questa gente qua. Allora vi ho detto che alcuni giornali come il messaggero parlano di questa tentazione del conte bis ed è lì il tema fondamentale e cioè che Di Maio, secondo un po' tutti quanti in retroscena, non vorrebbe mollare il Presidente Consiglio Conte. Alcuni giornali dicono che Zingaretti ci potrebbe stare e altri giornali dicono che Zingaretti non ci sta. Qualcuno in maniera invece un po' più mediata dice che Zingaretti alla fine potrebbe accettare un nuovo governo di Conte a patto che non ci sia Di Maio al governo, cioè un piccolo scalpo lo deve avere di discontinuità, cioè secondo loro fare un governo del PD con il Movimento 5 Stelle con Conte uno sputtanamento, invece senza Conte è una cosa che può passare così tranquilla agli elettori. Detto tra noi, poi oggi ci sono le fenomenologie di Conte su tutti i giornali, il Conte, l'avvocato, tra l'altro è fantastico perché ieri a Biarrizzi dove c'è il G7 Conte avrebbe detto se sono utile resto al mio posto. Io vi assicuro che se sono utile io resto anche al posto, non so, di Ministro degli Esteri. Se mi volete fare Ministro degli Esteri io posso essere utile, io ci vado, non vi preoccupate. Ragazzi è una cosa incredibile, giusto forse evocare per Castagnetti il 1976. L'idea è uno che faceva l'avvocato con Alpa che poi dopo è diventato Presidente del Consiglio dell'ottavo paese più industrializzato del mondo per caso, resta al suo posto con un piccolo problema. Lo nota Mazzanti oggi in un pezzo molto intelligente del tempo, è il quarto, il sesto governo consecutivo in quattro anni, no ho detto male, è la quarta volta in sei anni, scusatemi, è la quarta volta in sei anni che il PD va al governo senza aver vinto le elezioni, è una cosa straordinaria. Quindi il concetto di Conte che dice se sono utile resto al mio posto, non è il suo di posto, perché in realtà è vero che il Presidente del Consiglio può non essere eletto, ma comunque i governi una piccola democrazia la dovrebbero rispettare, invece qua se ne fottono tutti. All'alto compito che mi chiamano gli italiani, gli italiani non ti hanno chiamato a quest'alto compito, perché hanno chiamato un governo tra l'altro fatto in maniera un po' incredibile e in questo caso è un ribaltone di quel governo, ma queste sono piccole considerazioni che leggo mi sembra solo sul tempo, ma anche sul giornale, devo dire che sono giorni che puntano. Il giornale fa bene, poi Francesco Del Vigo, il vice direttore, lo fanno anche un po' anche gli altri giornali, a notare come... ma questi signori che da Landini a Macron a Prodi, io ci aggiungo l'Economist, questi signori hanno capito quale sarà questo esecutivo di che cosa si dovrà occupare, quali sono i temi di cui si dovrà occupare, su quali punti dovranno andare d'accordo. Oggi Nannicini, che è l'ex uomo di Renzi a Palazzo Chigi, un economista straordinario, ve lo dico perché l'ho conosciuto, mi sembra veramente una persona per bene, anche di lato, come posso dire, liberale, Nannicini che è un candidato a diventare ministro di questo governo, ha un'intervista che gli fa il messaggero e dice, beh sì, forse dovremo, magari potremo fare ammazzate, capocciate sull'economia, direi proprio di sì, perché conoscendo quello che pensa Nannicini e cosa pensa il Movimento 5 Stelle, le capocciate sono quelle proprio con le corna che dovranno fare tra di loro. Nel frattempo Fico, che ieri era diventato il grande candidato possibile alternativa di Conte, in realtà si sarebbe tirato da parte, ma Repubblica, con un pezzo della Cuzzocrea, affonda il coltello e cioè dice che il Movimento 5 Stelle è in un caos totale, è una banda di tutti contro tutti e che Fico in realtà non si sarebbe tolto dalla corsa a Palazzo Chigi, ma si sarebbe messo soltanto al lato per aspettare il momento giusto. Nel frattempo Feltri invece sul Libero dice, beh invece è il più paraculo di tutti perché ha capito che il Presidenza della Camera non gliela toglie nessuno e questa Presidenza del Consiglio, boh, quanto dura, come dura, perché la Camera, dice lui, potrà durare un po' di più magari di una Presidenza del Consiglio che non avrà nessun peso. Nel toto Ministri c'è di tutto, ma la cosa più divertente è che il PID, secondo il retroscena, chiederebbe economia interni ed esteri e anche una fettina di salame probabilmente. Gentiloni, secondo il messaggero, oltre a tutto questo sarebbe commissario europeo nominato da questo governo, una cosa favolosa. I Renziani, secondo invece il retroscena di Repubblica, chiederebbero le poltrone per loro e attraverso queste poltrone sempre Repubblica, dice, vorrebbero conquistare il partito. Riguardo alle divisioni del Movimento 5 Stelle, oltre a quelle del PD che ormai conosciamo, beh insomma l'interpretazione che leggo invece su altri quotidiani è che la vera frattura sarebbe tra casaleggio e l'evasore fiscale, cioè Grillo, l'assassino diciamo un po' colposo, quello che ha messo sotto una persona con la sua macchina e fu difeso, pensate un po' da voi, chi difese, quella è una cosa che non mi è rimasta, mi è rimasta di chi è l'avvocato che ha difeso Grillo dal suo omicidio stradale? Biondi, Alfredo Biondi, l'avvocato del Partito Liberale che poi ovviamente fu attaccato come corrotto proprio da Grillo e che fece assolvere Grillo da quell'omicidio. Vabbè, che cosa altro c'è da dire sul governo e sul toto a ministri? Beh una cosa di dettaglio beh è stupenda, che Salvini è stato indagato, processato, verrà processato, giornali su giornali perché avrebbe fatto fare, ha fatto fare un giro nella moto d'acqua di un poliziotto lì al papete dove si trova. Nel frattempo ieri Conte si è portato a Biarritz il figlio a G7 con l'aereo di Stato alle riunioni di Stato e anch'io vorrei essere figlio di un Presidente del Consiglio che mi porta in giro con l'aereo presidenziale o meglio quante polemiche nel passato abbiamo sentito fare da quelli del Movimento 5 Stelle con il loro assurdo moralismo per vicende di questo tipo, ma comunque io non ci trovo nulla di male, tanto l'aereo è pagato, però mettiamoci d'accordo, vale per tutti, ecco vale per tutti questa cosa. Io mi sono portato mio figlio al G7 di Biarritz, l'altro è una bella città dove magari si è andato al casino il figlio, certo non avrà partecipato all'incontro col Ministro iraniano portato da Macron. Non è questo il punto ovviamente fondamentale della giornata, sul Movimento 5 Stelle vi ho detto quello che è sui giornali, resta la Lega, sulla Lega vi vorrei leggere il fondo di Travaglio, il portavoce del Movimento 5 Stelle, oggi dice che finalmente ci siamo liberati della onnipresenza ossessiva del cazzaro verde, come chiama lui Salvini, può essere che ci siamo liberati della onnipresenza ossessiva del cazzaro verde, che probabilmente invece io è la prima persona che vorrei sentire, perché ha fatto la crisi, perché l'ha fatta ora, cosa farà nel futuro, eccetera, se e come vorrà accettare un invito a Quarta Repubblica alla sua prima puntata del 2 settembre, quindi 2 settembre Quarta Repubblica, invito pubblico a Salvini, non mi sembra ossessiva la sua presenza a Quarta Repubblica, mi sembra ossessiva invece l'antipatia e il fascismo e il nazismo e la dittatura che gli è stata attribuita, ma poi l'altra cosa che mi diverte è oggi ridotto sarebbe Salvini a mendicare ai piedi di Di Maio, questa è l'analisi equilibrata di Travaglio, ma la cosa più incredibile è che ormai Salvini avrebbe soltanto lo zoccolo duro dei suoi lettori, come dicono i recenti sondaggi, poi vado avanti sul fatto e vedo che per il fatto quotidiano il partito è crollato di 5 punti, per la verità anche in un titolo del giornale, in prima pagina c'è scritto come in altri giornali che la Lega è crollata di 5 punti, cosa vera, ma il giornale correttamente dice in un mese, cioè rispetto ai sondaggi del 30 luglio, il partito di Salvini è crollato di 5 punti, ma sapete quanto prendeva il 30 luglio secondo quei sondaggi? Il 39%, oggi sta al 33,7%, praticamente al voto delle europee, allora potrà anche essere Carlo Travaglio lo zoccolo duro, però certo se lo zoccolo duro è al 33,7% della Lega andiamo bene, cioè quest'altra che è dittatura, ce lo troviamo al 60%, se questi fossero i numeri veri che in realtà ovviamente è tutto da vedere, semmai andremo a votare. Il PD vi ho detto è ancora in ambasce, litigano all'interno del PD, litigano all'interno del Movimento 5 Stelle secondo il retroscene dei giornali, finalmente un leghista che parla, perché questi leghisti sembrano che siano tutti scomparsi, non c'è solo Salvini, oggi leggo un'intervista di Zaia, mi sembra sulla verità, che dice ha fatto bene a mollare, a straccare la spina il presidente del Veneto leghista, dice ha fatto bene Salvini a mollare la presa perché così non andavamo da nessuna parte e non riuscivamo a fare nulla, vedremo, gli elettori giudicheranno semmai potranno votare. Domani temo di non riuscire a fare questa rassegna, sono abbastanza sicuro che domani la zuppa non riesco a fare perché sono in aereo, ma torno per fare ovviamente il mio mestiere, finalmente riprendiamo, Quarta Repubblica, 2 settembre, bisogna prepararla, bene, questo momento siamo riusciti ad anticiparla di una settimana, quindi una buona giornata a tutti quanti voi, ciao!